In termini di progetti infrastrutturali, materiali e immateriali, tesi allo sviluppo dei territori, la Regione Campania mette a disposizione i propri fondi per progetti relativi a interventi sulla viabilità, sulla metanizzazione, sulle infrastrutture di rete. In particolare il grande progetto Banda Ultralarga, fortemente voluto dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo Di Luca, vede un investimento di circa 155 milioni di euro ed è finalizzato a rendere fruibili i servizi di connettività in fibra per i cittadini, le imprese e le sedi della pubblica amministrazione. Questo importante intervento mira l'installazione della Banda Ultralarga in 546 comuni della Regione Campania, con riferimento particolare agli obiettivi fissati dall'Agenda Digitale Europea, fondamentale di care Presidente della provincia Michele Stranese, che i comuni provvedano alle convenzioni con l'azienda concessionaria dei lavori, al fine di permettere, in tempi rapidi, l'attivazione delle procedure amministrative e quindi l'avvio dei lavori. È necessario inoltre coordinare i vari interventi previsti sul territorio, per cui gli interventi per la manutenzione delle strade, già finanziati dalla Regione Campania per 550 milioni di euro a comuni di tutte le province campane, dovranno coniugarsi per esempio con i lavori del progetto di metanizzazione nel Cilento, che riguarda 58 comuni, per un investimento di circa 50 milioni di euro, oltre che con le attività di installazione della Banda Ultralarga. Per quanto riguarda le strade provinciali e le competenze in capo a questo ente, assicuriamo massima collaborazione e coordinamento, per evitare sovrapposizioni o diversa tempistica di esecuzione dei lavori. Il nostro obiettivo sarà garantire interventi organici sul territorio, andando a programmare in piena sinergia con la Regione e i comuni interessati, i diversi lavori, sia per la realizzazione del grande progetto Banda Ultralarga, che per la messa in sicurezza e restyling delle strade, oltre che per le opere di metanizzazione per l'area del Cilento. Vogliamo evitare disagi inutili alle nostre comunità, con eventuali aggravi di tempi, oltre che di costi, conclude così il presidente della provincia di Salerno, Michele Stranese.